FESTIVAL SHOW CASTING la quarta tappa siamo al Destriero Shopping Center siamo a Vittuone in provincia di Milano e ancora una volta tanti giovani che si contenderanno un posto a Festival Show 2014 torna a trovarci con lei che funge da presidente oggi è Luisa Acorna insieme ad Antonella Lococo e poi special guest di questa puntata di Festival Show CASTING il grande Francesco Sarcina allora intanto ringrazio ovviamente il centro commerciale che ci ospita il direttore Di Pietro e Giusi grazie per averci naturalmente ancora ospitato nel vostro fantastico centro commerciale il Destriero Shopping Center di Milano e Giusi grazie per aver guardato il nostro corso gratuito e per aver guardato il nostro corso gratuito Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito e torna a trovarci Antonella Lococo in giuria anche oggi qui al Destriero Shopping Center senti Antonella ci sono solo 12 posti per i giovani a Festival Show ma decine e decine ragazzi che ci vogliono provare cosa devono fare? Cosa devono fare? Devo scegliere la canzone giusta? interpretarla bene cercare di cantare anche tecnicamente di essere più precisi possibili ma si sa anche che l'emozione abbiamo tanti concorrenti che si esibiscono per la prima volta su questo palco quindi cerchiamo di essere anche un po' obiettivi di valutare anche la situazione Parole distratte Teorie sull'amore Promesse spezzate Disorientate Parole che parlano Prendiamoci tempo Parole che dicono Lasciamoci spazio È facile a dirsi Difficile a farsi C'è il mio chiodo fisso Può andartene adesso Senti Luisa Parliamo Perché poi noi dalla giuria in realtà vediamo questi ragazzi spesso emozionarsi Probabilmente l'emozione a volte magari non sappiamo se può bloccare o far emergere al meglio il proprio talento da cantante Secondo te com'è? Ma quello dipende nel senso che è bello quando i ragazzi si emozionano perché comunque riesci a a esprimere una tua emotività e a farla arrivare a chi ti ascolta a chi ti guarda a volte invece può essere un blocco quindi la cosa più difficile è riuscire a gestire la propria emotività Ma sembra una bugia Non so se andare via o stare qui Non mi puoi trattare così quello che ho provato con te Francesco Sarcina E poi Certe volte mi chiedo Se cerchi anche tu Nel cielo la luna Che sai le riflette Lo sguardo e il pensiero Di che come noi Siamo l'entusiasmo del pubblico Ciao